Aledin è una lampada led da tavolo che ha la possibilità diciamo di muoversi nello spazio per cui è articolata, è un braccio articolato e la caratteristica di questa lampada è che è prevalentemente realizzata in materiale plastico. È la materia stessa che in qualche modo porta con sé tutta una serie di implicazioni tecnologiche che in qualche modo contribuiscono a dare un'identità all'oggetto, un'identità speciale, insomma non così usuale. C'era l'esigenza di una nuova lampada perché a catalogo Cartel non aveva una lampada da tavolo con i movimenti. Ho dovuto un po' convincerlo perché in realtà insomma aveva fatto tantissime le lampade era un po' forse stufo se non si trovava un'idea per doverla, come si può dire? Sì, per mettere in pista una nuova idea, per concretizzare una nuova idea. A volte che alla spinta lui ha messo anche molta passione della vicenda, ha messo anche una molta capacità di utilizzo degli strumenti avanzati di disegno per cui quando siamo arrivati a presentare un prototipo noi siamo arrivati con un elemento realizzato prima da lui in 3D con un disegno 3D e poi con una stampante 3D abbiamo realizzato un prototipo che abbiamo portato. Quindi siamo arrivati con un pacchetto complesso. Il led consuma pochissimo. Questa nostra lampada credo che massimo consumi 6 watt. Quindi se si paragona a una lampada tradizionale, incandescenza o halogena, il rendimento del led è enormemente più elevato. Quindi vuol dire avere la parità di effetto luminoso un consumo molto molto ridotto. Quindi questo è l'in più che c'è oggi grazie a questa tecnologia. E poi la cosa ridicola era questa cosa di aledin. Cioè siccome abbiamo detto la lampada è a led, allora abbiamo detto si chiama led in.